Salve a tutti, continuiamo a sviluppare il nostro sequencer scoprendo anche una utile funzione dpd che ci permette di racchiudere all'interno di un piccolo oggetto anche programmazioni molto complesse. Questa programmazione potrebbe anche risultare ingombrante all'interno dell'economia di una patch. Quindi noi possiamo racchiudere tutto il contenuto di questa programmazione in un unico oggetto creando un oggetto chiamato pd e un nome univoco che lo contraddistingue. Sequencer Creando questo oggetto ci viene fuori un'altra finestra vuota dove pd ci indica di copiare tutto ciò che vogliamo fare funzionare all'interno di questa finestra con alcuni comandi per collegarla con l'esterno. Da prima selezioniamo tutta la nostra programmazione la selezioniamo la tagliamo con ctrl x e la inseriamo all'interno di quest'altra. A questo punto noi dovremmo solamente costruire degli in e degli out per poi comandare tutta questa programmazione all'esterno solo ed esclusivamente in questo oggetto. Quindi come facciamo? Riduciamo questo per avere più spazio lo mettiamo qui e questa è la nostra sub patch sequencer corrispondente a questo oggetto. Noi dobbiamo creare gli in e gli out necessari per far funzionare la patch dall'interno all'esterno. Quindi eliminiamo questo toggle inseriamo un oggetto inlet e vedremo che appena configuriamo inlet quindi scriviamo inlet e click del mouse si forma il primo in di questa sub patch che era orfana di in e out fino a questo momento quanti in li mettiamo all'interno tanti in ci creerà all'esterno e noi possiamo programmare dei comandi dall'esterno che entrano dentro passano da questo cubetto e collegano altri pezzi di programmazione facciamo un esempio solo con uno a cui poi esternamente potremo collegare il nostro toggle possiamo chiudere questa sub patch che possiamo riaprire in qualsiasi momento facendo un click sulla sub patch stessa nella programmazione principale andiamo a vedere se tutto funziona accendendo il nostro sequencer semplicemente da qui per gestire gli altri controlli che prima gestivamo con il click del mouse sui messaggi dobbiamo programmare altri in che ci permettano di interagire ancora con la patch quindi aumentiamo ancora di più la sub patch per avere solo i controlli in quella centrale per esempio potremmo volere un comando per gestire semplicemente il tempo scegliendo dei comandi molto più intuitivi nella patch principale vediamo come fare usando lo strumento cell 0 1 2 e 3 colleghiamo il primo il secondo il terzo e il quarto introduciamo anche un altro oggetto che è l'oggetto radio verticale oppure in orizzontale come gli slider l'oggetto radio funziona in questa maniera si entra in proprietà si può gestire la grandezza e proprio le dimensioni fisiche come negli slider e la cosa più importante è che bisogna gestire gli step gli step in number quindi noi dobbiamo dirgli che vogliamo quattro vogliamo gestire quattro valori quindi vogliamo quattro caselle cliccabili scriviamo quattro dopo di che possiamo anche mandare un messaggio wireless send receive in questo caso lui manderà a un receive qui nella subpatch in send per gestire quattro valori scriviamo tempo per esempio questo punto abbiamo quattro caselle cliccabili i valori sono 0 1 2 e 3 quindi sono quattro valori vediamo che in cell nella subpatch è uguale 0 1 2 e 3 basterà a questo punto creare un receive tempo e i due saranno connessi quindi noi già abbiamo programmato l'intero impianto del sequencer con un in interno che accende con un toggle sempre dall'esterno verso l'interno con lo strumento radio come abbiamo appena fatto possiamo continuare anche a gestire la scelta del sequencer semplicemente utilizzando lo stesso strumento cell il receive e un altro radio andiamo a prendere un altro radio lo programmiamo gli step in questo caso sono tre perché tre sono le nostre scelte mandiamo anche in wireless scriviamo sec sta per sequencer basterà costruirli la stessa cosa che abbiamo costruito qui anzi possiamo duplicarla e riprogrammarla r non sarà più tempo ma chiaramente sarà quello nuovo sec i cell sono 0 1 e 2 colleghiamo il primo il secondo e il terzo e andando in modalità lettura vediamo vediamo come cambiano i valori nei numeri di controllo del sequencer schiacciando il secondo sono cambiati il terzo ci sarà il terzo la terza lista quindi la scala cromatica ben riconoscibile possiamo anche continuare a gestire gli altri l'altro valore che gestivamo prima che era la durata delle note MIDI e da quest'altro in di make note gestiamo invece la velocity quindi quanto forte quanto piano devono suonare le note MIDI che entrano facciamolo nella pratica usiamo in questo caso due slider orizzontali magari lo facciamo un po' più piccolo 75 valore da 0 a 127 in questo caso è perfetto lo slider per ragionare con le note MIDI perché questi sono i valori sia di nota e sia di velocity da 0 a 127 quindi quanto forte quanto piano sarà suonata quella nota di questo sarà la velocity mettiamo anche un'indicazione vel e adesso duplichiamo con un altro slider gestiremo la duration quindi in questo caso la duration la programmiamo andiamo da abbiamo visto che è meno di 30 diciamo 40 millisecondi fino ai 2 secondi per nota adesso adesso dobbiamo collegare con un receive chiaramente programmando anche un send vel e dur che sta per duration e nella subpatch creiamo i receive r r vel e r dur mettiamoci due numeri di controllo e possiamo inviare i due dati uno vel e due duration come vediamo stiamo programmando da la patch centrale dei comandi molto più intuitivi che gestiscono invece all'interno della subpatch la maggior parte della programmazione che permette poi il funzionamento del flusso di controllo e di audio che sia qua possiamo mettergli un bel toggle un po' più grande colorato vediamo adesso se il tutto funziona andiamo ora in modalità lettura carichiamo una sequenza carichiamo un tempo gli diamo una intensità quindi un volume con la velocity una durata e accendiamo il sequencer vediamo se tutti i comandi sono programmati in maniera corretta il tempo è cambiato cambiamo le sequenze mettiamo la squadra cromatica la terza suona più forte o più piano perché gestisce la velocity del midi e vediamo se la duration funziona si si allarga la durata delle note e tutto funziona correttamente buon divertimento a tutti e alla prossima